Siamo al centro dell'Umunnu, nel cuore del Medioevo. Siamo in Umbria. Il nostro tour di quattro giorni ci porta a vedere alcuni dei borghi più belli d'Italia, come Assisi, terra di San Francesco, patrono d'Italia. Qui visiteremo i luoghi simbolo della spiritualità francescana. Andremo nel borgo più bello d'Italia, Gubbio. Scopriremo le tradizioni e gubine, come la Corsa dei Ceri e la Fontana dei Matti. Faremo visita a Spoleto, ammirando l'enorme acquedotto romano e la facciata del Duomo, con all'interno i capolavori di Filippo Lippi. Scopriremo i luoghi di Santa Rita, tra Cascia e Roccaporena, due piccoli borghi in Valnerina. Mangeremo nel Medioevo, in un'antica abbazia, assaggiando tipicità locali, come la pasta alla norcina e il tartufo. Insomma, un tour per tutti gli amanti della bellezza e della bontà.